Castello Maniaci è chiuso, lo rendo un manufatto revocante alla concessione. Riportiamo la celebre frase attribuita a Socrates, tanto tu no che piove, per indicare che il manufatto sorto all'interno dell'area di Piazza d'Armi da oggi è chiuso per revoca a concessione a causa delle intimazioni di notifiche ricevute dopo il sopralluogo degli ispettori dell'assessorato regionale ai beni culturali e l'avvenuta consegna della sovrintendenza di Siracusa. Dalla notifica della Commissione Ortigia, relativo verbale di difformità, infine la magistratura con la disamina di tutte le carte poste sotto sequestro. Intanto l'area di Piazza d'Armi per via della chiusura del manufatto non rimane fruibile per la cittadinanza e turisti, quindi è cancello chiuso. Dalla storia abbiamo reeditato una città splendida per posizione, cultura, architettura e patrimonio dei siracusani del mondo. La contemporaneità si distingue per l'indifferenza ai valori e ai segni del passato, anche quelle più meritevole di attenzione e di rispetto. L'inchiesta è partita dalle colonne del quotidiano Libertà, a pagina 3, lo scorso 28 giugno 2018, con un intervento intriso di particolari di Italia Nostra. La realizzazione della manufatto nell'area del Castello Menace è stata il tormentone dell'estate. Le ragioni sollevate sono quelle che sappiamo, sintetizzando il bando del demanio abbastanza discutibile, il bando per costruire una struttura mobile di ristoro e non di intrattenimento, le autorizzazioni della sovintendenza che non tiene conto della valutazione dell'impatto della struttura avvenisticamente mostruosa sul Castello e del Comune, poi con la Commissione Ortigia che forse ha omesso il controllo periodico idem della sovintendenza da evitare possibili deformità e l'uso del calcestruzzo. Il Tizio ha costruito in silenzio il manufatto senza alcun controllo delle autorità competenti, infine i parametri sconfessati della legge sulla navigazione. Insomma, gli ispettori dell'assessorato regionale ai beni culturali hanno lavorato sodo e hanno scoperto che il Tizio ha commesso delle notevoli deformità. I rievi dei tecnici e dei beni culturali attengono alla realizzazione del basamento in calcestruzzo per l'ancoraggio della sovrastruttura che sarebbe stata realizzata in deformità con il progetto approvato, il quale non doveva esserci. Un sostanziale incremento di oltre 50 cm dell'altezza complessiva della struttura rispetto al progetto che ha ottenuto il beneplacito degli organismi competenti. Infine, una apertura di porta in più, senza considerare l'impatto ambientale consistente di tale astronave luccicante che sovrasta il paesaggio antistante.